L'invio a giudizio per il medico è l'ostetrica dell'ospedale di Battipaglia indagati nell'ambito dell'indagine sul decesso di Sofia Maria, neonata nata morta la 35esima settimana di gravidanza. Il GIP Pietro Indinnimeo ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio del PM Elena Guarino, secondo la quale i due indagati avrebbero cagionato per colpa, negligenza e imperizia la morte della neonata, arrivata in seguito ad una sofferenza fetale. L'accusa è di responsabilità colposa in ambito sanitario.